In questo tutorial ti fornirò le informazioni utili per risolvere l'errore username e o password errate in fase di accesso con speed ai portali della pubblica amministrazione. Accedi alla pagina selfcarespeed.aruba.it con nome utente e password. Assicurati di aver inserito correttamente la password. Per farlo, clicca l'icona a forma di occhio per visualizzarla in chiaro. Se l'accesso non va a buon fine, esegui la procedura di recupero dati cliccando sui link indicati. Per maggiori dettagli sulla procedura di recupero delle credenziali speed, consulta i tutorial dedicati, raggiungibili dal portale guide.pec.it sezione Utilizzo speed.